...frando l'ingresso qui, sentiamo di gioco il lanciere del Paglio, la madrina del Paglio che presenteremo specialmente tutta la gara di questa sera sarà punti per l'abbinamento dei rioni che si affronteranno poi domenica pomeriggio allo stadio comunale per disputare il Paglio 2014. Ricordo che a termine di questo Paglio dei ragazzi, sempre qui in piazza, avremo uno spettacolo di un po' di sapore gigantesimo qui in piazza alle ore 10, la messa di benedizione alle 11.15, alle 2.30 la sfilata storica e successivamente la disputa del Paglio 2012 nello stadio comunale. inizia nel migliore dei modi, questa trentesima edizione, l'ha detto bene Giorgio, è un'edizione per noi importante fatta magari anche in un momento difficile che però testimonia la voglia di me, della città, della nostra comunità di trovarsi, ritrovarsi, compiere questo atto, io dico un atto d'amore verso la comunità perché ci si ritrova e sono quattro giorni assolutamente di festa. Buonasera, io comincio. Buonasera, io sono un'edizione per la comunità 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 per la comunità